Matteo è uno come tanti e come tanti ha qualcosa di unico in testa, un'idea che vorrebbe prima o poi realizzare. Ci sono vite più facili di altre, Matteo invece ha dovuto mettercela tutta. Prima ha capito che ci voleva impegno, poi che doveva applicarlo nella direzione giusta e ha scelto Pegaso. Con l'Università Pegaso puoi studiare e dare gli esami a distanza, puoi laurearti, puoi migliorare te stesso e il tuo lavoro e trovare il modo di realizzare i tuoi progetti. Pegaso, il futuro. Ricomincia da te. ECP Lusm, sede di Agropoli. Via Pio 10 46. Telefono 351 971 6605. Unipegasoecplusm.it